Milano riapre i battenti e saluta le vacanze e così anche tanti pugliesi residenti all'ombra della Madonnena. Per tanti di loro il periodo di ferie è coinciso con il ritorno ai luoghi di origine, un tipo di vacanza considerato minore dagli istituti di ricerca dedicati e che va sempre più riducendosi con il passare degli anni e con la sottigliarsi della corrente migratoria. In realtà, almeno per quanto riguarda la Puglia, è bastato un breve sondaggio per comprendere come, forse anche complice la crisi, si è nata una vera controtendenza relativamente al ritorno verso le proprie radici. Io sono stato a Bisceglie con qualche scappatina a Giovinazzo, anzi vorrei sottolineare, anche se non sono di Giovinazzo che hanno un centro storico, sono rimasto all'invito, è veramente bello. Un'altra settimana, Ginosa Marina, provincia di Taranto. Come ha trovato la città? E' un paese nativo, ho trovato bellissimo. Bandiera blu. In Puglia, rigorosamente in Puglia, a Gallipoli. Sono tornata a casa. Come hai trovato la tua Puglia? Bene, come sempre, come la dovevo trovare? Bene, meravigliosamente, tanti turisti. Quello che noi vediamo dalle persone che conosciamo, dai componenti delle associazioni, tutti vanno in Puglia per tradizione, per incontrare la loro famiglia. Il ritorno in Puglia in estate è un classico anche per i pugliesi milanesi.